Per tre giorni Pistoria sarà capitale del microteatro. Accadrà da venerdì 17 a domenica 19 settembre, quando si terrà il primo festival di questa particolare forma di rappresentazione. La cornice sarà quella del Teatrino Gatteschi di Vicolo Malconsiglio, dove si esibiranno tre compagnie in spettacoli di 15 minuti. La particolarità del microteatro è infatti proprio nei tempi degli spettacoli, riservati ad un ridotto numero di spettatori, proprio come accade al Gatteschi. L'iniziativa è dell'associazione G713, in collaborazione con Teatro per la Coscienza ed il Polo Puccini Gatteschi, di cui il Teatrino fa parte. Un evento sperimentale, diciamo, che su questa tecnica del microteatro, che è già nota in Spagna, per esempio, sono tutti mini spettacoli, diciamo, di 15 minuti. Le compagnie professioniste sono state selezionate durante i mesi di maggio e di giugno e sono state 15 le compagnie selezionate. Ne sono arrivate tre e queste tre compagnie, ora poi dal 17 al 19 di settembre, si alterneranno con una giuria anche popolare, perché il pubblico potrà votare e quindi siamo pronti ai preparativi di questo nuovo festival. Un'offerta, diciamo, più mirata e che probabilmente ha l'ambizione di arrivare anche a un pubblico forse anche più giovane, che magari trova nella rapidità una, come dire, una forma nuova di proposta artistica, soprattutto quella teatrale, che a volte il classico, quindi il teatro classico, un po' scoraggiare con le sue canoni anche più tradizionali.